Le due relazioni concentrano l'attenzione sul problema fondamentalmente della crescita di questo Paese e soprattutto il problema del debito. La relazione da Banca d'Italia è una relazione del Governatore Visco, una relazione molto molto articolata, dove focalizza e ripercorre quelli che sono i gap strutturali e quindi la potremmo quasi definire un'agenda per le riforme, riforme strutturali per consentire a questo Paese di riprendere un percorso di crescita che ha smarrito ormai da diversi anni. La relazione questa mattina del Professor Savona è una relazione che affronta questo tema, lo affronta portando l'attenzione forte sulla forza dell'Italia nel commercio internazionale, quindi la parte dell'export e il ruolo importante che ha il risparmio. Non sono visioni diverse, però ci sono, come dire, enfasi, se vogliamo, diverse, importanti, che sono abbastanza evidenti, quindi, come dire, l'evocare il ritorno alla fiducia è sicuramente una cosa importante, però credo che senza riprendere un percorso di crescita importante, con un piano di riforme importante che possa recuperare la produttività di questo Paese che è molto bassa, sia un compito piuttosto difficile. Grazie. 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 Grazie.